Siamo qui con Francesco Zito dell'Accademia Calcio Roma. Ciao Francesco, dici le tue questioni sulla partita. La partita era molto tosta, ma ce la siamo giocata e potevamo anche vincere. Si poteva fare molto di più. Il tuo gol è stato molto importante, però la partita poi si è fissata sull'1-1. Sì, potevamo anche evitare quel gol, però ci stanno gli errori tecnici nella partita.